Stamattina a Marina Marza sono stati completati i lavori di pulizia del canalone C. I volontari del Consorzio SAE della Marza dopo anni sono riusciti a completare un lavoro senza essere interrotti dalle forze dell'ordine. Non si sa ancora se in questo centri la riunione tenuta due giorni fa tra il sindaco, le forze dell'ordine e il commissario del Consorzio Comunale. Quindi se alla fine l'ente ha fornito la documentazione che attesta la demanialità dei canali, ma per i volontari quello di oggi segna un momento di svolta. Molto probabilmente nascerà anche un problema di titolarità di competenze relativamente alle autorizzazioni a poter agire, ma la rappresentante Silvana Bicego è convinta di avere le carte regola per farlo. Alla fine dei lavori la differenza tra il prima e il dopo è abissale. Qualcuno dei privati aveva messo in discussione anche il fatto che ci fosse lì un canale. Ma le immagini parlano chiaro. Come emerge adesso? In maniera evidente che alcune costruzioni sono proprio sul canale. Completati i lavori del versante C, quello del quale per intenderci C volevano mandar via qualche giorno fa, i volontari vogliono adesso completare l'opera spostando uomini e mezzi da un'altra parte. La questione da un punto di vista di procedimenti penali e amministrativi non finisce sicuramente qui, ma di certo quella di oggi rappresenta per i volontari che da anni lottano per la pulizia dei canali una vittoria.